Oggi, nel giorno della festa di San Francesco di Salle, desidero rivolgere un cordiale salute e auguri a tutti i giornalisti e gli operatori della comunicazione sociale in Sicilia, prendendo spunto dalle parole di Papa Francesco nel tema della 57esima giornata mondiale della comunicazione sociale in cui ci invita a parlare con il cuore, desidero augurare a tutti di vivere nella verità, di accogliere la verità, di annunziare, trasmettere la verità del Vangelo. Con la dignità della professione portare tutti a un cammino di progresso di civiltà fondato sulla giustizia, sulla verità del Vangelo, promuovendo la partecipazione e la corresponsabilità di tutti alla ricerca e alla custodia del bene comune. Auguri di cuore a tutti, buon cammino, buona festa.